ciao sono il dottor max della farmamax che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci in formato video dove io personalmente vi leggerò i bugiardini in questo video ti leggo il bugiardino del farmaco ambisome gilead sciences srl ultimo aggiornamento 20 luglio 2021 cos'è ambisome confezioni informazioni commerciali sulla prescrizione indicazioni posologia controindicazioni avvertenze speciali e precauzioni di impiego interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione assumere ambisome durante la gravidanza e l'allattamento effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari effetti indesiderati sovradosaggio proprietà farmacodinamiche proprietà farmacocinetiche dati preclinici di sicurezza elenco degli eccipienti farmaci esteri cos'è ambisome ambisome un farmaco a base del principio attivo anfotricina b appartenente alla categoria degli antimicotici antileishmaniosi e nello specifico antibiotici è commercializzato in italia dall'azienda gilead sciences srl ambisome può essere prescritto con ricetta osp medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile confezioni ambisome 50 mg polvere per dispersione per infusione 10 flaconcini informazioni commerciali sulla prescrizione titolare gilead sciences srl ricetta osp medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile classe c principio attivo anfotricina b gruppo terapeutico antimicotici antileishmaniosi forma farmaceutica polvere indicazioni ambisome è indicato nel trattamento empirico di presunte infezioni fungine in pazienti con neutropenie febbrile nel trattamento di severe micosi sistemiche e barra o profonde le infezioni fungine trattate con successo con ambisome comprendono candidiasi disseminate aspergillosi mucormicosi micetoma cronico e meningite criptococcica ambisome può anche essere efficace nelle seguenti infezioni fungine blastomicosi del nord america cocidionicosi istoplasmosi mucormicosi causata da specie dei generi mucor rizopus absidia eptomoftore basidiobolus e sprotricosi causata da sporotrix skin key questo farmaco non dovrebbe essere impiegato nel trattamento di comuni forme subcliniche di affezioni fungine che mostrano solo positività ai test cutanei ossierologici posologia la posologia di ambisome deve essere stabilita dal medico in funzione delle condizioni del paziente ambisome deve essere somministrato per infusione endovinosa per un periodo di 30 60 minuti per dosi superiori a 5 mg barra di e si raccomanda l'infusione endovinosa per un periodo di due ore vedere il paragrafo 44 la concentrazione raccomandata per l'infusione endovinosa è di 0 e 20 mg barra ml 2 mg barra ml di amfotericina bilipossomiale così come formulata in ambisome vedere il paragrafo 66 pazienti adulti trattamento empirico della neutropenia febbrile la dose giornaliera raccomandata e 3 mg barra chilogrammi trattamento delle micosi la terapia è normalmente articolata con una dose giornaliera di 1,0 mg barra chilogrammi aumentata progressivamente fino a 3,0 mg barra chilogrammi se necessario comunque una dose cumulativa da 1 g a 3 g di amfotericina b come ambisome in 3 4 settimane è normale trattamento della mucormicosi la dose iniziale raccomandata è di 5 mg barra chilogrammi da somministrare una volta al giorno la durata della terapia deve essere determinata su base individuale cicli di 6 8 settimane sono usati comunemente nella pratica clinica una terapia di più lunga durata può essere necessaria per infezioni più profonde o in caso di trattamento chemioterapico prolungato neutropenia dosi maggiori di 5 mg barra chilogrammi sono state utilizzate in studi clinici e nella pratica clinica a questi dosaggi più elevati i dati di sicurezza e di efficacia di ambisome nel trattamento della mucormicosi sono limitati pertanto la valutazione del beneficio rischio deve essere fatta a livello di singolo paziente per determinare se i benefici potenziali del trattamento possono essere considerati superiori al rischio maggiore di tossicità noto a dosaggi di ambisome più alti pazienti pediatrici ai pazienti pediatrici ambisome è stato somministrato a dosi simili a quelle usate per gli adulti basate sul peso del corpo pazienti anziani non è richiesta alcuna modifica della dose o della frequenza di somministrazione compromissione renale ambisome è stato somministrato in studi clinici con dosi iniziali che variavano tra 1 e 3 mg barra chilogrammi barra di ad un ampio numero di pazienti con insufficienza renale preesistente e non è stato richiesto alcun adattamento della dose o della frequenza di somministrazione vedere paragrafi 4 4 e 5 1 compromissione epatica non sono disponibili dati in base ai quali esprimere una raccomandazione posologica per i pazienti con insufficienza epatica vedere paragrafo 4 4 ambisome non è sostituiti le con altri medicinali a base di enfotelicina per le istruzioni sulla ricostituzione e la diluizione del prodotto prima della somministrazione vedere paragrafo 6 6 controindicazioni ipersensibilità al principio attivo o ad uno qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6 1 allergia alla soia o alle arachidi avvertenze speciali e precauzioni di impiego reazioni gravi correlate alle infusioni sono state riportate anafilassi e reazioni anafilattoidi in associazione all'infusione di ambisome se si verifica una reazione anafilattica barra anafilattoide grave l'infusione deve essere immediatamente interrotta e vedi la scheda tecnica del farmaco rcp completa accedi al sito www.codica.it interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione non sono stati effettuati studi di interazione comunque è noto che i seguenti farmaci interagiscono con l'anfotelicina b terapie nefrotossiche la somministrazione contemporanea di amfotelicina b con altri agenti nefrotossici vedi la scheda tecnica del farmaco rcp completa accedi al sito www.codica.it interazioni riportate su letteratura scientifica internazionale prima di prendere ambisome insieme ad altri farmaci come accuretic accedure accequide accesistem aldactazide aluneb compresse rivestite benazepril più idroclorotiazide aurobindo benazepril più idroclorotiazide sandoz bitrizide bisoprololo più idroclorotiazide milan generics blu presid 16 12 5 candesartan più idroclorotiazide alter candesartan più idroclorotiazide doc generici compressa candesartan più idroclorotiazide e g candesartan più idroclorotiazide euro generici candesartan idroclorotiazide hcs candesartan più idroclorotiazide milan candesartan più idroclorotiazide clorotiazide milan generics, candesartan più idroclorotiazide sandots, compressa, candesartan più idroclorotiazide teva Italia, candesartan più idroclorotiazide zentiva, compressa, captopril più idroclorotiazide milan generics, civadrex, coa besart, coa provel, con diure, corexil, compresse rivestite, cotareg, electra, in all'april più idroclorotiazide alnus, in all'april più idroclorotiazide alter, in all'april più idroclorotiazide eurobindo, in all'april più idroclorotiazide doc generici, in all'april più idroclorotiazide eg, in all'april più idroclorotiazide eurogenerici, in all'april più idroclorotiazide exal ag, in all'april più idroclorotiazide exal, in all'april più idroclorotiazide milan, in all'april più idroclorotiazide pensa, in all'april più idroclorotiazide ratiofarm, in all'april più idroclorotiazide sandots, in all'april più idroclorotiazide Sandots GmbH, in all'april più idroclorotiazide Sun, in all'april più idroclorotiazide Zentiba, Enefin, Exidrex, Femi Press Plus, Forus, Forzhar, Fusicombi, Fusinopril più idroclorotiazide Doc Generici, Fusinopril più idroclorotiazide Milan Generix, Fusinopril più idroclorotiazide Teva, Gentipress, Erza+, Izar, Idalazide, Compresse rivestite, idroclurutiazide aurobindo, idroquark, idrotens, i firmacombi, inibace plus, initis plus, i persart, irbediur, irvesartani idroclurutiazide docgenerici, irvesartani idroclurutiazide eg, irvesartani idroclurutiazide macleods farm, compressa, irvesartani idroclurutiazide tecnigen, compressa, irvesartani idroclurutiazide zentiva, irvesartani idroclurutiazide alter, il besartanidro cloroutiazide di milan, il besartanidro cloroutiazide pensa, il besartanidro cloroutiazide sandhoc, il besartanidro cloroutiazide teda, curriculum, crue plus, la addedch, l'esineron Re qui Drio cloroutiazide docgenerici, Lisino pre il più idro cloroutiazide. EG, l'isino pril più idroclorutiazide Egypt, l'isino pril più idroclorutiazide Milagenerix, l'isino pril più idroclorutiazide Pensa, l'isino pril più idroclorutiazide Sandots, l'isino pril più idroclorutiazide Teva, l'isino pril più idroclorutiazide Zentiva, l'obidiur, compresse rivestite, lo Doz, lo sartam più idroclorutiazide Almus, lo sartam più idroclorutiazide Aurobindo, lo sartam più idroclorutiazide Doc, lo sartam più idroclorutiazide G, lo Sartan e idroclor voted a C ça, compresse rivestite, lo Sartan più idrocloroptiazide Laboratorio Alter, lo Sartan più idroclor],, demilangenerics, lo Sartan più hidroconfortiazide pensa, lo Sartan più hidroclorǐ racing de Sandoz, lo Sartan più hidroclorıyoruz yazide sun, lo Sartan più hidroclor philosyde Teva, lo Sartan più hidroclorytiazide Zentiva Italia, lo Sartan, lo Zivd, Micàdisclus, Compressa, Module Auretic , ne舞 hulolo idro cloroutiazide Accord ,abeЕb hi wololo idro cloroutiazide DOK Generici ,ne servicios eyeulolo idro cloroutiazide IG ,ne beneficioiesi firing anti opciliabil del termine migliore ? Nebivulolo e idroclorotiazide Teva Italia, Neolotan Plus, Nobizide, Compresse rivestite, Norazide, Olmegan, Compresse rivestite, Olmesartan idroclorotiazide EG, Compresse rivestite, Olmesartan idroclorotiazide Aurobindo, Olmesartan idroclorotiazide Doc Generici, Olmesartan idroclorotiazide Sandoz, Compresse rivestite, Olmesartan idroclorotiazide Zentiva, Olmesartan medoxumile idroclorotiazide Alter, Olmesartan medoxumile idroclorotiazide EG. H. C. S. Compresse rivestite, due mille? Penza A. Medox mille? Proghtriazide Presdior. compresse rivestite, princide, pritor plus, quinapril più idroclorotiazide e g, quinapril più idroclorotiazide milagenerics, quinazide, ramipril più idroclorotiazide accord, ramipril più idroclorotiazide eurobindo, ramipril più idroclorotiazide docgenerici, ramipril più idroclorotiazide epifarma, ramipril più idroclorotiazide eurogenerici, ramipril più idroclorotiazide egip, ramipril più idroclorotiazide exal, ramipril più idroclorotiazide ipsofarma, ramipril più idroclorotiazide eurogenerici, ramipril più idroclorotiazide egip, ramipril più idroclorotiazide egip, ramip ramipril più idroclorotiazide crca, ramipril più idroclorotiazide milagenerix, ramipril più idroclorotiazide pensa, ramipril più idroclorotiazide farmeg, ramipril più idroclorotiazide ratiofarm, ramipril più idroclorotiazide sandoz, ramipril più idroclorotiazide san, ramipril più idroclorotiazide zentiva, rasinezza hct, ratacand plus 16, 12, 5, ratipred, sinertek, Spiridazide, Telmisartanidroclurutiazide Accord, Telmisartanidroclurutiazide Alter, Telmisartanidroclurutiazide Doc Generici, Telmisartanidroclurutiazide IG, Telmisartanidroclurutiazide Milan Farm, Telmisartan più idroclurutiazide Sandoz, Telmisartanidroclurutiazide Teva Italia, Telmisartanidroclurutiazide Zentiva, Tensozide, Tiartan, Tolucombi, Compressa, Triatech HCT, Compressa, Unipridur, Valbacomp, Compresse rivestite, Validroc, Valsartanidroclurutiazide Doc Generici, Valsartanidroclurutiazide IG, Compresse rivestite, Valsartanidroclurutiazide HCS, Valsartanidroclurutiazide Milan, Valsartanidroclurutiazide Pensa, Valsartanidroclurutiazide Sun Doz, Valsartanidroclurutiazide Sun, Valsartanidroclurutiazide Tecnigen, Compresse rivestite, Valsartanidroclurutiazide Tecnigen, Valsartan più idroclorotiazide Teva Italia, Valsartan più idroclorotiazide Teva Farm, Valsartan più idroclorotiazide Teva, Valsartan più idroclorotiazide Zentiva, Compresse rivestite, Vasoretic, Zantipride, Zelboraf, Zestoretic, Zinadiur, Zofenoprile idroclorotiazide Doc Generici, Zofenoprile idroclorotiazide EG, Zofenoprile idroclorotiazide Milan, Zoprazide, ecc. Chiedi al tuo al tuo medico o farmacista di fiducia di verificare che sia sicuro e non dannoso per la tua salute, assumere ambisome durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere ambisome durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza La sicurezza di ambisome in donne in gravidanza non è stata stabilita. Ambisome deve essere usato durante la gravidanza se i benefici possibili risultano superiori ai potenziali rischi per, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari Non sono stati effettuati studi sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Alcuni degli effetti indesiderati di ambisome presentati di seguito possono influenzare l'abilità di guidare ed usare macchinari. Effetti indesiderati Febbre e brividi barra freddo sono le più frequenti reazioni attese correlate all'infusione che possono verificarsi durante la somministrazione di ambisome. Le reazioni meno frequenti correlate all'infusione possono consistere in uno o, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it Sovradosaggio La tossicità di ambisome causata da sovradosaggio non è stata definita. In caso di sovradosaggio, sospendere immediatamente la somministrazione. Monitorare attentamente lo stato clinico, incluse le funzioni cardiorespiratorie, renali ed epatiche, lo stato ematologico e gli elettroliti. L'emodialisi o la dialisi peritoneale non sembrano influenzare l'eliminazione di ambisome. Proprietà farmacodinamiche Categoria farmacoterapeutica Antimicotici per uso sistemico Antibiotici Codice ATC Ilunga 02A01 L'amfotericina B è un antibiotico, antimicotico, polienico prodotto dallo streptomyces nodosus, che ha mostrato in vitro un'alta attività contro, proprietà farmacocinetiche. Il profilo farmacocinetico di ambisome, sulla base delle concentrazioni plasmatiche totali di amfotericina B, è stato determinato in pazienti affetti da cancro con neutropenie febbrile e pazienti sottoposti a trapianto, dati preclinici di sicurezza. La tossicità acuta a seguito di somministrazione EV di una singola dose di amfotericina B, si riduce di 20 volte se la stessa dose viene somministrata sotto forma di ambisome. Elenco degli accipienti Saccarosio, lecitina di soia, idrogenata, disteroi lecitina, colesterina, alfatocoferolo, sodio succinato e seidrato. Ambisome, alla dose massima giornaliera 5 mg barra kg, contiene 49 mg di sodio, equivalente al 2,5% dell'assunzione massima giornaliera. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.